Grazie a tutti. E lui per un tratto andava, conosceva e aveva preso tantissimi bronzelli che poi erano passati dei professori da Cagliari e li avevano preso, ovviamente perché poi è giusto così, sperando che fossero professori, sperando che stai con me. E lui scavava lì dalla zona di Bonorchis, aveva la vigna. E anche i pintori. Eccole lì, le pratoline che cominciano già. Si permettono queste sfacciate già di... In pieno inverno, cioè non proprio pieno, ma inizio d'inverno. Questa era la struttura. Anche questo... Il gioco di... La storia di bamele. Questa è la struttura. Questa è la struttura. Questa è la struttura. Questa è la struttura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.